Lunedì 13 maggio, vi ho detto questo perché abbiate pace in me, vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tripolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. E' una sintesi perfetta del modo attraverso il quale noi possiamo predisporci ad accogliere un messaggio di liberazione e di salvezza, che non è meramente religioso, è profondamente antropologico, scuote la coscienza e ci porta a una dimensione altra rispetto a quella della mondanità. Ripeto ancora, vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Non è una pace armata, non è una pace negoziata tra potentati, è una pace trovata nella trascendenza, in una appartenenza universale che Gesù testimonia. la parola che si è fatta carne, il figlio dell'uomo, è venuto per liberare l'umanità dal proprio peccato che da sempre è presente su questo pianeta. È il peccato di dominio e di possesso che genera violenza, senza sopraffazione, ingiustizia. Tribolazioni appunto. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Ho vinto quella mentalità mondana che è fatta appunto di guerre, di violenze, di possesso. La liberazione ci porta invece a una realtà nella quale non escludiamo la presenza delle tribolazioni perché appunto la concretizzazione della tendenza al peccato egocentrico continuerà ad esserci. Ma noi possiamo trovare il modo per avere coraggio. Il coraggio di testimoniare, il coraggio di perseverare nonostante le tribolazioni. Ma leggiamo l'intero brano del Vangelo di oggi che ci viene proposto, il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù, ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Tu sai tutto. Abbiamo bisogno di fare delle interrogazioni. Quegli uomini che hanno espresso nel corso della loro esperienza anche momenti di incredulità. Quegli uomini riconoscono il significato della presenza di Gesù. Chi è Gesù? Tu sai tutto. e attraverso questa formulazione di una certezza sentono che il dire di Gesù viene accolto da loro nella pienezza della verità. Rispose loro Gesù. Adesso credete? È una domanda che rimanda ai dubbi che ci caratterizzano esattamente come i discepoli, i dubbi. Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. la dispersione. Gesù non costituisce né un esercito, né una nazione, né una religione supponente. Ognuno procede nella propria singolarità, solo, ma ognuno allo stesso tempo, pur nella solitudine, è nella pienezza della presenza di Gesù. Per i non credenti ognuno può essere solo, ma può accedere al significato di una appartenenza autenticamente comunitaria, ecologica. non sentirsi soli, nonostante quella dispersione che a volte possa la coscienza e ci porta a chiuderci dentro a delle piccole nicchie ecologiche, che sono le nazioni con i loro confini, per il timore di sentirsi solo. Sono le famiglie chiuse in se stesse, che non si aprono al mondo. Sono le idee di razza, di culture, chiuse in se stesse, le quali, nonostante l'evidenza anche scientifica, che le razze non esistono, se non come costruzione tecnologica o culturale. Ma siamo contemporaneamente soli, soli, il che significa dover fare i conti costantemente con la nostra risposta concreta. Chi sei tu? Così recita l'umanesimo, nella sua formulazione evolutiva e liberante, non una considerazione astratta di chi sia l'uomo. Chi sei tu, uomo, nella tua solitudine? A volte angosciato, a volte sottoposto anche alla prova dell'essere lasciati isolati e soli, emarginati. Ma il Vangelo di oggi ci conforta perché possiamo accedere a una pienezza di coscienza che mette in evidenza la nostra appartenenza. Gesù è nel Padre e vi ho detto questo perché abbiate pace in me, in questa appartenenza. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Ancora una volta dobbiamo riconsiderare il concetto di vittoria sul mondo, che è nel cambiamento radicale di mentalità, nonostante ognuno di noi sia destinato a vivere in questo mondo, fatto da tante tribolazioni e tentazioni. Nonostante questo dobbiamo coltivare il coraggio di cambiare mentalità, di vincere nei termini di una conversione che sradichi le nostre convinzioni, che si oppongono all'appartenenza per rimanere nell'alvio della padronanza e del possesso. Ancora una volta il Vangelo si presenta come messaggio autentico di liberazione, di pace, di giustizia e di amore. Buona giornata a tutte e a tutti.